Stavattina sono a Milano da Atelier Me perché proprio oggi lanciano la loro nuova campagna sposa con nuovi modelli di abiti da sposa, una collezione magica speciale a tema il viaggio dell'amore. Il viaggio dell'amore è un tributo all'Italia, una metafora di vita insieme, di un percorso dopo il grande giorno, è stata realizzata sui colli toscani e all'interno di un treno d'epoca, adesso vi faccio vedere il video campagna. Quindi per scoprire di più su questa nuova collezione di Atelier Me e per prenotare il vostro appuntamento vi lascio qui sotto il link in su app. Oddio, 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 si torna in montagna! Oddio, 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 si torna in montagna! Brava! brava hanno fatto anche il bagnetto oggi ma che bello ma che belli con il bagnetto belli profumati belli belli buongiorno 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 anche lui anche lui che si lamenta che non viene mai coccolato mai 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 andiamo oddio 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 l'armadietto dei biscottini oddio i biscottini i biscottini i biscottini ma qui ma qui ci sono dei biscottini uno per uno va bene vai fuori 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 bravo ahia piano bravo 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 un po' meno e noi ho fatto un libro su questo perché è stato veramente lungo il nostro percorso dell'adozione e abbiamo avuto la possibilità di avere Gregori ci spiegando ci spiegiamo questo ragazzo adesso non è nel di 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 chi è che dai a ch Grazie.